Via Libra del Governo al decreto che taglia i costi delle regioni, in molte le novità non sarà ricandidabile chi spende troppo, ridotti i consiglieri e i loro stipendi, aboliti i vitalizi e controllo della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti sulle spese. I scandali danno incalcolabile, dice Monti, che apre cautamente a un taglio delle tasse. Crediti d'imposta al 50%, facilitazioni per la creazione di nuove imprese innovative e informatizzazione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i cittadini. Il Governo ha varato il decreto legge sullo sviluppo detto Trasforma Italia, sbloccherà opere per decine di miliardi, assicura il Ministro Pastera. Matteo Renzi attacca i dirigenti del partito sulla proposta di cambiare le regole per le primarie nel PD, poi apre al doppio turno e all'albo degli erettori. Il PD candida Zingaretti alla Regione Lazio. Berlusconi pensa ad un nuovo partito che sostituisca il PD nella bufera, ma non scioglie il nodo della sua candidatura. Tre vittorie e una sconfitta per gli italiani in Europa League. L'Udinese compie un'impresa andando a vincere a Liverpool con un Super di Natale, successi anche per l'Udinese. L'Inter e la Lazio, mentre il Napoli di Mazzarri crolla in Olanda, perdendo per 3-0 dal PSV. Buongiorno alle 7.28, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della SETA. Allora dunque è arrivato il tanto atteso decreto legge del Governo sul taglio dei costi degli enti locali. Un vero e proprio cambio di rotta che oltre appunto a questo taglio prevede anche delle regole più severe. Ad esempio non potranno essere candidati i sindaci che spendono troppo. Ma sul fronte politico abbiamo anche ancora i fermenti del PD e del PDL. Domani, sabato, c'è la tanta attesa assemblea del PD che dovrà stabilire le regole per le primarie. Intanto nel PDL gli ex EN sono sempre più vicini alla scissione. Vediamo. L'opinione pubblica è sgomenta di fronte a fatti che minano gravemente la fiducia, la reputazione del Paese e la sua credibilità. Lo dice il Presidente del Consiglio presentando il decreto legge sulla trasparenza e sulla riduzione dei costi della politica approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento prevede oltre alla riduzione del numero di consiglieri e assessori anche un tetto ai loro compensi fissato a livello adottato dalle regioni più virtuose, cancellati vitalizi. Inoltre non sarà più possibile cumulare indennità e emolumenti e su tutte le voci di spesa degli antilocali vigileranno la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza. Sindaci e Presidenti di provincia poi dovranno trasmettere ogni tre mesi alla magistratura contabile un referto sulla regolarità della gestione del sistema dei controlli interni. Infine i finanziamenti ai gruppi consigliari saranno abbattuti del 50%. Lo stesso decreto introduce anche una sanzione molto forte per le regioni che si rifiutano di attuare le misure di taglio ai costi della politica. Per loro infatti scatterà prima la decurtazione fino all'80% dei trasferimenti dallo Stato centrale e addirittura nei casi più gravi lo scioglimento del Consiglio per inadempienze di legge. E il Premier insiste anche sulle misure anti-evasione e contro il malcostume politico. La lotta all'evasione e alla corruzione, spiega, fanno parte essenziale del programma di questo governo. Spero che il provvedimento anti-corruzione sia approvato definitivamente. In Casa PD intanto continua lo scontro sui meccanismi delle prossime primarie. No è giochini sulle regole, ripete il rottamatore Matteo Renzi, disponibile al doppio turno, ma non alle pre-registrazioni dei votanti. Il nodo sarà sciolto domani dall'Assemblea Nazionale del Partito Democratico e doverà stabilire le nuove regole. Ma le tensioni regnano fortissime anche nel PDL, dove l'alla degli ex-AN sembra sul punto di abbandonare il partito. Anche il Popolo della Libertà, nel tentativo di arginare la valanca dello scandalo della Regione Lazio e degli scontri interni, potrebbe giocare per la prima volta la carta delle primarie, almeno per presidenti di regione e sindaci. Per il candidato Premier, invece, si vedrà. Il tutto è rimandato dopo la riforma della legge elettorale, in attesa che Berlusconi sciolga la riserva sulla propria candidatura. Un Berlusconi, che lo avete sentito anche dai nostri titoli, starebbe un po' prendendo le distanze da questo PDL, ormai dilaneato dagli scandali e dalle lotte intestine. Un PDL che potrebbe avere i giorni contati, il Cavaliere ne avrebbe parlato con i suoi nel vertice dell'altro giorno a Palazzo Grazioli, ma comunque per il momento si tratta ancora di indiscrezioni. Tornando al Consiglio dei Ministri di ieri, oltre al taglio delle spese degli enti locali, c'è un'altra novità, anche questa molto attesa, il via libera del decreto sviluppo, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe trasformare l'Italia. Ma ieri il Premier Monti ha detto anche una cosa importante, che non esclude l'ipotesi di individuare un percorso di riduzione del carico fiscale. Ha precisato però di individuare un percorso, almeno per il momento. Ma vediamo allora quali sono le novità del decreto sviluppo. È stato ribattezzato Crescita 2.0. 38 articoli che, secondo il Premier Mario Monti, dovranno rendere l'Italia un paese competitivo grazie all'innovazione, sbloccando opere per almeno 15 miliardi di euro. Il decreto parte dai servizi digitali per i cittadini, con un documento unico, gratuito, che sostituirà carta d'identità e tessera sanitaria. L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Basta inviare la propria mail, insomma, per ottenere documenti. In caso di mancata trasmissione, il personale inadempiente potrà anche subire un'azione disciplinare. Ma il processo di digitalizzazione non si ferma qui. Biglietti elettronici per le aziende di trasporto pubblico, fascicoli elettronici per gli studenti universitari, libri digitali, accanto a quelli cartacei, per gli alunni di scuole medie e superiori, cartelle cliniche per i pazienti del sistema sanitario nazionale, prescrizioni mediche solo online, obbligo di pagamenti elettronici per le amministrazioni e imprese pubbliche. Al centro del decreto, poi, ci sono le start-up, le aziende innovative, alle quali saranno concessi diversi benefici. Non dovranno, per esempio, pagare imposte di registro e di bollo e potranno raccogliere capitale attraverso speciali portali online. Nei prossimi tre anni, chi investe in una start-up potrà detrarre il 19% dall'IRPEF Lourda, stipulando contratti a tempo determinato fino a 36 mesi, prorogabili una sola volta. Passati quattro anni, poi, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato. Il decreto legge Trasforma Italia punta anche alle grandi opere, previsto, infatti, credito d'imposta fino al 50% per le infrastrutture, mossa che, per il ministro dello sviluppo economico Passera, potrà sbloccare opere per decine di miliardi. Novità, anche per quanto riguarda le assicurazioni, verranno abolite le clausole di tacito accordo per il rinnovo delle polizze. E veniamo adesso alla cronaca. Ieri interrogatorio di garanzia per Franco Fiorito, rinchiuso, come sapete, nel carcere di Regina Celi a Roma, con l'accusa di Pecolato. Lo stesso continua a lanciare accuse verso tutti, in particolare ieri contro l'ex presidente della regione abruzzese, dicendo che lui sapeva tutto, e poi ancora che tutti i gruppi facevano così, che tutti sapevano tutto, e che comunque quei soldi gli aspettavano per tutti gli incarichi che lui ricopriva. Intanto è stato fissato per martedì 9 ottobre l'udienza del Tribunale del Riesame per il ricorso che è stato fatto dai legali di Fiorito nei confronti dell'ordinanza che ne ha disposto il carcere. Fiorito contro tutti, l'ex capogruppo PDL della regione Lazio, in cella nel carcere romano di Regina Celi, accusato di Pecolato, ora va all'attacco. E nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP dichiara altri sapevano della spartizione dei fondi, compreso il presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, il quale non ci sta e ribatte, ma è stato a conoscenza di come venissero usate quelle somme. Ma la guerra di Fiorito sembra solo all'inizio, dentro e fuori dal PDL. L'ex sindaco di Anagni rincara la dose e afferma davanti al GIP Facevano tutti così, anche gli altri gruppi consigliari. Arrestato dalla Procura di Roma per essersi appropriato di quasi 1.400.000 euro transitati dal fondo PDL nei suoi conti correnti, Franco Fiorito ha risposto alle domande del giudice per quasi tre ore. Quei soldi mi spettavano, ha detto con sicurezza. Il fiume di denaro, circa 300.000 euro annui, gli sarebbe spettato perché rivestiva tre incarichi, consigliere, capogruppo e presidente della commissione bilancio. Nel contrattacco, Fiorito lancia i suoi estrali verso gli ex colleghi. Tra chi sapeva come venivano spartiti i soldi assegnati, c'erano, secondo l'esponente PDL, i componenti della commissione bilancio del suo gruppo, Romolo Del Balzo, Ernesto Ermici, Stefano Galletto ed Andrea Bernaudo. Fiorito ribadisce anche le accuse al nemico di sempre, collega di partito, Francesco Battistoni. Intanto la procura ha disposto il sequestro dei beni di Fiorito, le auto lussuose, la BMW comprata per il partito e poi rivenduta a se stesso, la Jeep acquistata in fretta e furia a febbraio, nei giorni della neve a Roma, la Smart, troppo piccola per lui, passata poi alla segretaria. Sequestrata anche la villa da 800.000 euro del Circeo, tutto comprato, secondo i magistrati, con i fondi pubblici destinati al gruppo PDL. Bloccati anche i sette conti correnti in Italia e quattro all'estero. Il denaro sarà trasferito nel Fondo Unico per la Giustizia. Abbiamo raccolto prove molto concrete, scrive il Jeep disponendo il sequestro. I legali di Fiorito hanno fatto ricorso al Tribunale del Resame, chiedendo la scarcerazione del loro assistito, che per ora resta in isolamento, senza neppure la consolazione di merendine e bevande dolci. I medici del carcere gliele hanno proibite, potrebbero nuocere alla sua salute. Dicevamo delle accuse mosse da Fiorito a Mario Abruzzese, che è Presidente del Consiglio regionale, non come vi ho detto prima, della Regione Lazio. Veniamo all'economia. Il Governo assicura che la ripresa ci sarà, ma per il momento quello che si percepisce è in effetti una recessione che non d'attrego. E questo lo confermano anche i dati, questa volta sono quelli della ConfCommercio. Vediamo cosa dicono. 1.579 miliardi e 659 milioni di euro. Tanto vale l'Italia, o meglio, tanto era il valore dell'Italia nel 2011. Quelle 13 cifre, infatti, sono il dato relativo al nostro PIL in numeri assoluti per l'anno 2011. Già nel 2011 non siamo riusciti ad arrivare alla cifra tonda dei 1.600 miliardi. E c'è da esserne pressoché certi, vista la recessione certificata da tutte le statistiche. Nell'anno che si avvia a conclusione andrà anche peggio. E peggio starà il nostro potere d'acquisto che, diciamolo, già l'anno scorso non è che se la sia passata poi così bene. La nostra forza economica, infatti, si è ridotta, è sempre l'Istat a dircelo, dello 0,8%, risultato di redditi che crescono molto meno dell'inflazione. Di conseguenza, anche la nostra propensione al risparmio si è ridotta e non di poco, quasi di un punto percentuale. Nel 2011, infatti, la nostra ben nota capacità di mettere da parte il classico gruzzoletto è passata dal 9,7 all'8,8%. In pratica, su 100 euro, gli italiani non riescono a tenerne per loro neanche 9. E nel 2012, anno delle stangate del governo tecnico, non possiamo sperare che le cose vadano meglio. Anche perché, e questa volta il confcommercio a dircelo, i consumi continuano a scendere. Fatturati a picco ad agosto, globalmente, nel mese balneare per eccellenza, che macinava utili. Abbiamo sfiorato i tre punti percentuali di perdite per l'auto. Il numero diventa un impietoso, meno 12,4%. Impossibile inversione dal profilo declinante, dice l'Ufficio Studi della Confederazione. Non è tempo di essere ottimisti. E non c'è da essere ottimisti, naturalmente, nemmeno sul fronte del lavoro. Sono scesi, questa notte, i tre operai della Vinyls di Porto Marghera, che ieri si erano arrampicati sul campanile di San Marco. Questo per protestare, perché da ben cinque mesi non percepiscono lo stipendio, pur continuando a lavorare. E un futuro incerto, in questo momento, è per molte aziende che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, per le storie dei loro operai e anche delle persone che, naturalmente, vivono attorno a queste realtà. Alcoa, Ilva, Fiat ed altre aziende si ritroveranno il 20 di ottobre a Roma per una manifestazione indetta dalla CGL. Ma vediamo adesso com'è andata per questi operai della Vinyls. Guardare il cielo dall'alto del campanile di piazza San Marco, a Venezia, e vedere l'effetto che fa. La disperazione degli operai della Vinyls di Porto Marghera torna a farsi sentire. In quattro sono saliti sul campanile di San Marco, una protesta pacifica contro lo stallo, in cui è l'azienda chimica. Dal 2009 in cassa integrazione, da cinque mesi non arrivano né stipendi né i sussidi previsti, ma loro vanno ugualmente a lavorare sul campanile. C'è anche una donna, Nicoletta Zago, che raggiunta telefonicamente spiega «Siamo stanchi di essere presi in giro». I quattro operai, rimasti poco dopo in tre, uno di loro è sceso per un malore, sono entrati nel monumento e, una volta mescolatesi tra i turisti, hanno raggiunto la cella campanaria a 50 metri d'altezza, dove hanno esposto lo striscione Vinyls la vergogna. Uno di loro, Lucio, ha raccontato che la scelta del campanile di San Marco è arrivata perché viene chiamato il paron di Venezia, proprio come sono i padroni, i commissari, che li hanno portati a questa situazione disperata. L'azienda è commissariata da tre anni e nulla sembra muoversi verso scenari diversi da quelli attuali. Dopo circa sette ore, i tre operai hanno abbandonato il presidio, insieme a loro alcuni agenti della Digos che li hanno assistiti e rifocillati. Ora i lavoratori della Vinyls attendono che dopo l'incontro con il sindaco di Venezia Orsoni arrivino i fatti. Oggi il primo cittadino ha promesso loro di incontrare la cassa di risparmio di Venezia per cercare di sbloccare gli stipendi arretrati. La protesta di Venezia è solo l'ultima in ordine di tempo. Ieri si è conclusa a Roma la vicenda dell'imprenditore di Trieste a Piazza San Pietro. Restano ancora da risolvere il futuro degli operai dell'Alcoa e del Sulcis. E veniamo agli esteri perché ormai è tregua armata tra Siria e Turchia dopo che ieri il Parlamento di Ankara ha dato il via libera ad eventuali azioni militari oltre confine. La Siria si è scusata per quel corpo di mortaio caduto su un centro abitato che ha causato cinque morti in Turchia e la Turchia ha sospeso i bombardamenti che erano iniziati proprio per ritorzione. Il premier Erdogan ha assicurato che la Turchia non vuole fare guerra ma questo provvedimento che è stato preso appunto dal Parlamento ha soltanto un scopo dissuasivo. Ma comunque la tensione rimane alta. La svolta che raffredda almeno per ora la tensione è arrivata ieri sera. La Turchia non vuole una guerra contro. La Siria annuncia il premier Erdogan che chiarisce ancora meglio il concetto è l'ultima cosa che vogliamo e poi ammonisce. Sappiamo difendere i nostri cittadini e le nostre frontiere. Nessuno provi a sfidarci su questo. L'incubo di un conflitto diretto tra gli antichi alleati di una volta sembra insomma scongiurato. Da mesi i rapporti tra Damasco e Ancara a causa della guerra civile siriana sono al minimo storico ma il colpo di mortaio che ha ucciso cinque persone nella cittadina turca di Akakal e la conseguente rappresaglia con i bombardamenti nei quali sono morti decine di soldati siriani sembrava fossero solo i preliminari di una vera e propria guerra. Se l'appoggio della Nato è arrivato scontato è vero però che gli alleati occidentali sono più che prudenti intervenire al fianco della Turchia significherebbe inevitabilmente un'ingerenza nel conflitto interno alla Siria. Berlino, Londra e Parigi, gli Stati Uniti hanno dato la loro solidarietà condannando l'attacco di Damasco. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto che simili violazioni del diritto internazionale cessino subito e non si ripetano ma forse sono state le manifestazioni di migliaia di cittadini ad Istanbul e ad Ankara scesi in piazza contro la guerra a convincere il governo turco a frenare grazie anche alle scuse ufficiali della Siria. Resta comunque in vigore il Via Libera per un anno a possibili azioni militari votato dal Parlamento in realtà da tempo il Premier Erdogan penserebbe ad un intervento armato per imporre una zona cuscinetto lungo la frontiera ma l'America finora si sarebbe opposta. Damasco alla Turchia chiede invece autocontrollo e soprattutto di fermare le infiltrazioni di terroristi armati dal suo territorio verso la Siria Turchia, Qatar e Arabia Saudita favoriscono ormai da un anno l'arrivo di centinaia di jihadisti vicini ad Al-Qaeda ritenuti responsabili degli attentati kamikaze ultimi quelli di ieri ad Aleppo e nella capitale che tra militari dell'esercito regolare e civili hanno provocato una settantina di vittime. E veniamo allo sport con il calcio ieri serata di Europa League erano ben quattro le squadre italiane impegnate una su tutte l'Udinese una grande impresa ha battuto il Liverpool fuori casa ma vediamo anche com'è andata per le altre squadre. Ci voleva un'impresa per sbancare il mitico stadio di Anfield Road di Liverpool ci voleva l'Udinese dell'anno scorso capace di arrivare fino ai preliminari di Champions League per tornare in Italia con i tre punti in palio e i friulani sono stati capaci di una grande partita soprattutto di una ripresa di notevole fattura dopo che i primi 45 minuti di gioco si erano conclusi con il vantaggio del Liverpool. Di Natale il protagonista assoluto suo il gol del pareggio suo il perfetto assist per Pasquale per il bellissimo 3-1 in mezzo l'autorete dei Rezze con Coates il gol di Suarez ha semplicemente fissato il risultato sul 3-2 Udinese adesso in testa la classifica del proprio girone insieme a Lanzi vittoria più facile del previsto per l'Inter a Baku in Azerbaijan contro il Neftici un successo mai messo in discussione già archiviato alla fine del primo tempo chiuso con il risultato di 3-0 per Nero Azzurri reti di Cotigno di Obi e di Livaia gol del Neftici nella ripresa con Canales per la squadra di Stramaccioni questa è la sesta vittoria in sei partite in trasferta dall'inizio della stagione sta leader del gruppo insieme ai russi del Rubin Kazan e che adesso potrà pensare al derby di campionato di domenica prossima con molta più serenità anche la Lazio esce dal giovedì di Coppa con una vittoria all'Olimpico contro il Maribor è bastata la rete di Ederson nella ripresa per regalare i tre punti ai Capitolini secondo gol in due partite per il brasiliano ex Lione Lazio solitaria in testa al proprio girone chi invece ha malamente steccato è stato il Napoli in Olanda contro il PSV un 3-0 finale che fa male soprattutto perché la squadra di Mazzari non è mai stata in partita solo due tiri in porto in tutti i 90 minuti di gioco e tanti troppi errori difensivi neppure l'ingresso di Cavani nella ripresa ha prodotto i furti sperati una brutta partita che i partenopei dovranno dimenticare in fretta in classifica gli ucraini della Dnipro comandano dietro a pari punti PSV e in Napoli e prima di chiudere un'altra notizia 17 imprese estere hanno evaso 112 milioni di euro di IVA in Italia avevano la sede legale in paesi come Cipro Francia Gran Bretagna Irlanda e Spagna ma commercializzavano appunto nel nostro paese migliaia di tonnellate di materie prime violando qualsiasi obbligo fiscale e anche per questa edizione è tutto per gli aggiornamenti potete continuare a seguirci su Twitter e sul nostro sito tgla7.it la prossima edizione alle 13.30 adesso dopo la pubblicità il meteo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani vi auguro una buona giornata